Conoscete l'elettrice palatina? Questo appellativo si riferisce a Anna Maria Luisa de' Medici, l'ultima discendente diretta della dinastia de' Medici, che fu eletta erede universale del Gran Ducato di Toscana nel 1737. Ella morì il 18 febbraio del 1743 ed è ricordata per il celebre patto di famiglia, stipulato il giorno 31 ottobre del 1737 con il cugino Francesco Stefano di Lorena, un accordo tra Anna Maria Luisa e la casa d'Asburgo Lorena, che garantiva che i ben artistici e i culturali dei Medici rimanessero per sempre vincolati a Firenze. Dopo la sua morte si parla di inamovibilità, lei fu lungimirante perché parlò di ornamento per lo Stato, utilità del pubblico e curiosità per attirare la curiosità dei forestieri. Tutte le opere d'arte raccolte dai Medici venivano cedute al nuovo Gran Ducato, ma vincolate per sempre alla città di Firenze e lei fu la prima a intuire i vantaggi del turismo e la tutela delle opere d'arte.